Beppista, come stai? Bene, la mamma guida. Non vedo l'ora che arriviate. Quanto vi manca ancora? Il nonno verrà al ricevimento di stasera. Comunque, papà, dov'è? Alla casa di riposo Sala. Vieni, no. Cerchiamo il nonno. Questa che cos'è? Una tomba. Un momento. Dovrebbe proteggere le famiglie perché restino unite. Ciao, papà. Chi ci fa del male viene maledetto. Vedete. Onorate gli anziani, poiché essi sono numerosi. E un giorno sarete tutti come loro. Ho paura che un giorno non sarà tutto perfetto come ora. Il cuore è pieno di persone. E la soluzione più facile è abbandonare qualcuno. Dov'è il mio bambino? Ha iniziato tutto solo quando sei arrivata. Che cosa vedi? Un essere umano? O un animale? O un animale? O un animale? O un animale?